Ciao a tutti, sono Alessio19870, altro gameplay di Metal Gear Solid 4. Dopo il filmato andiamo avanti. Devo affrontare Krinkwolf. Allora, cambiamo arma, tolgo questa e metto il Javelin. Ok, Patriot. Solid Eye nella visione notturna. Facciamo fuori questi deficienti. Mi non è anche colpita. E fatti colpire. Oh, finalmente. Andiamo di là. Ah, tolgo efficiente. Ecco. Va. Va. To, scendi e cadi. E un altro, altri. Saliamo queste scale. Eccola. Laggiù. Ok, andiamo di là. Railgun. Beccati questo. To. Metto il Javelin e beccati questo. Ah 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 ah. Cambio arma e metto l'M4. Niente. Incredibile. Io spazio non si è fatta niente. Strano. Seguiamo le sue orme. Di qua. Vediamo un po' dov'è. Eh, spaiate le orme. Ok. Vediamo un po' dov'è. Eccola. Ma che? Oddio. Cambio arma subito. L'ho colpita in pieno. Beccati questo. Una granata stordente mi hanno tirato quella. Ste deficienti qua. E andatene fuori dai coglioni. Dov'è adesso? Eccola lì. Devo dargli il colpo di grazia. Eccolo che arriva. Eccolo. Dov'è. Colpita. Sì. Ce l'ho fatta. L'ho fatta fuori. Finalmente. E parte un filmato. E si toglie quella robaccia di rosso. Il suo colpo è Bordeaux. Ha preso troppo freddo. Mamma mia. Che schifo. Togliamo il filmato. Che schifo. Togliamo il filmato. Il Mosin. Il Mosin Nagant. Il Mosin Nagant. Ok. E spariamo i narcotici. E uno. Accidenti. E due. Terzo colpo. Terzo colpo. Sì. E vai. Sempre tre colpi di narcotico. E parte un filmato. Non so cosa gli prende. Snake la fissa. Intanto Otacon. Aggiusta quella porta. Eh. Togliamo il filmato. Yo Snake. Si. 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 Parlo di Kringwolf. Altro filmato. Questa zona. Come me. Metal Gear 1. Dove Snake ammazzò. Sniper Wolf. Sniper Wolf. Sniper Wolf. Wolf. Ricorda. E togliamo il filmato. Togliamo il filmato. Ok. Rimetto il mio Patriot. Dice quel cane. Lasciamo perdere. Entriamo qua dentro. Sniper Wolf. Sniper Wolf. Sniper Wolf. Sniper Wolf. Il disc 1. Il disc 2. Ma ma. Il disc 2. No. No. Huh? Oh. Senti. Siamo nella Playstation 3. Ma dai. Ha capito che ha il disco 2 da mettere della Playstation. Ma dai. Che pirla. E sono qua dentro. Dunque. Finisce qui i gameplay di Metal Gear Solid 4. Un ciao da Alessio 19 870. Al prossimo gameplay.